La CNA Toscana Centro stringe i tempi ed esorta la politica, quella locale e quella nazionale, a sfruttare le opportunità del PNRR per realizzare e migliorare infrastrutture al momento insoddisfacenti, come i collegamenti viari. Allo stesso tempo, dice, è necessario dare più spazio a idee e progetti di rigenerazione urbana e fonti di energia rinnovabili. L'occasione è stato un recente convegno che si è tenuto nella sede pistoese dell'Associazione, dove sono state presentate alle istituzioni le proposte concrete per i progetti di sviluppo della competitività territoriale finanziabili con il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza. La contingenza è caratterizzata da un forte aumento della materia prima e ancora di più dall'esplosione dei costi dell'energia e questo impatta in modo diverso in vari settori, ma per i cosiddetti energivori, cioè quelli che basano la propria produzione su un forte consumo di, per esempio, energia elettrica o di gas, questo è un momento tremendo, tant'è che ci sono molte proteste, garbate chiaramente, ma ipotesi di addirittura sospendere le produzioni perché il costo del prodotto andrebbe ad un livello che poi renderebbe difficile la vendita. A livello territoriale un altro argomento che risulta specifico e fortemente sentito è quello della formazione specifica, si parla di formazione ormai da tanti anni e fondamentalmente effetti concreti, mi riferisco al nostro territorio, non si sono visti. So che anche recentemente la Giunta Comunale ha puntato su determinati indirizzi voler riportare sul territorio un tipo di formazione, per esempio, come l'ITS Prime che è una formazione evoluta che consente un interscambio tra imprese e diplomati favorendo una formazione ancora più specifica e quindi c'è l'interesse, però si osserva un po' a tutti i livelli la difficoltà nel reperimento di un livello di mano d'opera neanche troppo avanzata.